...che ci dice tutti quanti. Adesso state vedendo le battee che stanno passando e stanno accogliendo le personalità che tra poco arrivano. Le battee che voi vedete raffigurano i pescatori che fin dal 1400-1500 arrivavano fino qua per portare doni alla Madonna, all'oratorio appunto della Madonna della Pescheria dove siamo qui. Vedete l'accoglienza bellissima di queste barchette, di queste canoe che arrivano in manovia, che arrivano qui, guardate che bello, la barca che porterà i doni alla Madonna. Questa rinoccazione storica è particolarizzata anche e soprattutto dai vestiti proprio di quel periodo e dal momento in cui arriveranno i doni e questa dana porterà. Adesso arriveranno fino qua, gireranno. Intanto salutiamo le personalità che ci sono a bordo, il sindaco di Concordia. e poi arrivano qui. Eccoli qua. E' appogliano con un grande applauso. di dagli anni con un grande applauso. petta richieste. E' esplosione con un grande applauso. Grazie. Grazie. Saludiamo le barche che ora se ne vanno, ti ringraziamo, ti salutiamo tantissimo. Ora ti salutiamo tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Sono riuscito a passare quattro sigla. Molto uguale a essere qui. Quindi faccio parte della tradizione della patola della pesca. Cosa dire? In effettiva il professor sigla, quando ha parlato, perché la macchina dell'euro si servisce, l'autofumore, l'arco di portofano, l'arco di portofano, l'arco di portofano, l'arco di portante è stato storico, e quindi anche importante è stato economico, in qualche anno, in qualche anno, ma adesso non è. E anche lo spesso che ha fatto sigla con rispetto al fatto che, alla fine rispetto al fatto che dobbiamo lavorare insieme. Ora adesso ho il piacere di passare il microfono. A vostro signor. Buonasera, io riprendo brevemente un pensiero che ho avuto modo di scrivere nel foglio, in occasione di questa festa della pescheria, perché pensando ai pescatori che venivano qui per ringraziare la Madonna per il pescato, lo facevano anche per scongiurare quello che è il pericolo e la paura maggiore dei pescatori, cioè le reti vuote. Getto le reti e non tiro su niente. E allora, questa è anche una memoria biblica, quando quei primi pescatori in riva al mare non hanno pescato niente, Gesù li ha incoraggiati a uscire di nuovo e a gettare le reti. E Pietro ha detto sulla tua parola, getterò le reti. e fecero una pesca, una pesca meravigliosa, importantissima, che ha trasformato il cuore di questi apostoli dinanzi a Gesù. Quindi sono rimasta molto impressionata, lo dirò la verità, io l'ho sempre seguita dal cuore questa manifestazione, invece mi onoro a fare parte sicuramente per evocare una tradizione così. Grazie. 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 Grazie.